Ciao a tutti, io sono Asia e vi do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Finalmente oggi vi mostro gli ultimi arrivi all'interno della mia libreria. Si tratta degli ultimi acquisti che ho fatto negli scorsi mesi, di scambi che ho fatto su Watchbooks e mi sono arrivati un po' di libri per delle collaborazioni che appunto ho accettato di ricevere in quanto mi ispiravano particolarmente. Abbiamo tanto tempo per registrare quindi inizieremo velocemente, vi avviso solamente che non saranno presenti in questo video tutti i libri che mi sono arrivati perché settimana scorsa c'è stato il mio compleanno e quindi sono arrivati nel mentre altri libri che sono stati i miei regali di compleanno ma prossimamente uscirà un video interamente dedicato solo ai miei regali di compleanno. Quindi vando alle cianci iniziamo. Il primo libro che ho recuperato, che magari non è il primo in ordine temporale però è quello che vi mostrerò per primo Labyrinthi di Frank Tillie, un thriller super super chiacchierato, penso che sia il terzo tipo di una trilogia però questi libri possono essere letti separatamente, non serve che siano letti come appunto la trilogia sarebbe meglio perché magari c'è qualche intreccio che per uscire a capire a pieno devi aver letto gli altri libri però io ho deciso di recuperare questo perché era quello che mi ispirava di più se mi piacerà lo stile di Tillie allora magari recupererò gli altri si tratta appunto di un thriller, mi ispira un sacco diciamo che appena l'ho comprato non mi devo l'ora di leggerlo adesso non sono tanti mood thriller però mi ispira comunque moltissimo L'altro titolo che ho recuperato assieme a Labyrinthi, quindi lo stesso giorno, è questo saggio che ho già iniziato però ho messo un attimo in pausa perché sto portando avanti troppe letture contemporaneamente e sto parlando di Elogio del fallimento di Costi Cabra d'Atan questo testo mi ha ispirato fin da subito quando l'ho visto in libreria la prima volta poi dopo una gara che era andata malissimo per consolarmi visto che era vicino a un centro commerciale sono entrata e il primo libro che ho visto lì davanti a me era questo e ho detto devo prenderlo io tra l'altro ero in lacrime perché la gara era andata malissimo ero super consolata sono entrata, secondo me la libraia mi ha guardato e avrei detto ma questa e poi mi sono arrivata con questo libro e niente è stato molto divertente questo story time comunque l'ho iniziato e non è male, non è male ancora magari deve ingranare del tutto però molto scorrevole, molto di facile lettura il sottotitolo è 4 lezioni di umiltà quindi insomma mi ispira un sacco e voglio riprenderlo però bisogna un attimo di smaltire quello che sto leggendo perché sto leggendo 50 libri insieme vi faccio vedere subito un altro saggio è stato frutto di uno scambio su watchbooks non mi ricordo per che cosa l'ho scambiato però si tratta di Dante, di Alessandro Barbero questo testo che io guardavo e ammiravo e rimiravo da anni nelle librerie finalmente è mio e tra l'altro, oddio non avevo visto i bigliettini c'è un bigliettino, grazie, buona lettura e una tisana bonomelli, rilassante wow, questa l'avevo assolutamente stasera io amo Barbero ascolto tutti i podcast, le registrazioni dei suoi convegni e quindi non vedo l'ora di vedere come lui approcci la figura di Dante sono molto curiosa anche perché se Barbero scrive come parla allora siamo a cavallo pazzesco poi è bellissimo questo libro è proprio bello è un acquisto che ho fatto perché la mia banca mi ha regalato un buono da poter spendere su Amazon di 20 euro e io ho detto via, compriamo un libro subito appena l'ho visto avrei avuto tempo un bel po' per poterlo spendere però appena l'ho visto sono andata a ricercare che libri fossero all'interno della mia wishlist che volevo di più e sono ricaduta su comprare il custode di Francesca Tamborini questo fantasy che viene associato molto a Harry Potter un po' alle Winx queste vibes così molto che sono diciamo una coccola per me mi ispira tantissimo Francesca io la seguo sui social da tantissimo e la amo perché è simpaticissima si è fatta un sacco di autopubblicità diciamo tramite i suoi video ha saputo sfruttare i social secondo me molto bene veramente brava complimenti e io non vedo l'ora di leggere questo libro che è bellissimo veramente bellissimo cioè guardate la copertina non so se la vedrete perché in modalità cinema magari me la sfoca però è pazzesca cioè è veramente bella anche al tatto bellissima voglio vedere la sottocoperta perché ancora non l'ho tolta bello bello questo rosa sparaflesciato a me piace tantissimo questo fucsia e niente sono curiosissima sembra proprio un fantasy coccola quindi quando avrò bisogno di qualcosa che mi tenga diciamo al calduccio leggerò questo libro i due libri che ho comprato insieme lo stesso giorno allora io sono andata in libreria per comprare un libro però sapevo che avrei comprato anche l'altro quindi sono andata diretta a cercare quelli e boom il primo li ho letti tutti e due già il primo è abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson questo libricino capolavoro un capolavoro della letteratura gotica veramente parla di queste due sorelle che vivono isolate all'interno di questo castello assieme allo zio vivono isolate per un motivo che verrà poi spiegato ma non posso dirvelo perché sarebbe spoiler e il contatto con le persone non è che sia proprio il loro passatempo preferito diciamo e amano appunto stare da sole isolate nel loro castello vivere la loro vita assieme allo zio finché non arriva un parente un cugino che appunto stravolgerà le loro vite è un testo bellissimo bellissimo veramente la prosa di Shirley Jackson è magnetica io di Shirley Jackson ho già letto l'incubo di Hill House che è qui non riesco a tirarlo fuori perché è incastrato troppi libri vabbè non riesco a tirarlo fuori ho già letto e ho l'incubo di Hill House di Shirley Jackson però questo lo supera decisamente ma veramente alla grande l'inizio è un po' lento cioè per riuscire a ingranare ci ho messo una ventina di pagine poi però quando ha preso il via è andato via è proprio liscio come l'olio anche dai miei come ho messo i segni a pagina si può capire perché all'inizio non ce ne sono poi dopo è pieno l'altro libro che ho preso assieme a questo è stato un testo di cui vi ho già parlato all'interno del wrap up del mese di ottobre sì e sto parlando di Game of Goals di A.S.Riley si tratta di un romance che lei aveva scritto inizialmente su Wattpad e poi è stato trasposto in libro e solitamente Wattpad il problema è che essendo che sono dei libri fatti per essere letti a puntate diciamo ci sono molte ripetizioni qua invece è un testo estremamente lineare che sembra appunto stato scritto apposta per diventare poi un romanzo a me è piaciuto molto come stile di scrittura una scrittura molto fresca e un libro veramente molto coinvolgente adatto ai periodi più confusionari o quando vuoi fare una lettura si vuole fare una lettura in one sitting che però sia leggera secondo me questo è un bellissimo testo e io sono stata spinta da comprarlo perché con la prima tiratura potevi avere la cartolina con l'invito appunto di uno dei fratelli lively a uno dei loro giochi per la trama appunto vi rimando al wrap up di ottobre che vi linkerò qui da qualche parte io sto aspettando il seguito e non vedo l'ora di leggerlo di proseguire io sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo testo sono partita molto indifensiva diciamo perché mi fanno sempre molta paura questi testi però sono super contenta di potermi essere ricreduta ultimo mio acquisto si tratta di Marianna di Matteo Strucul allora questo autore è diventato famosissimo per il libro Paolo e Francesca Paolo e Francesca e si tratta appunto della storia romanzata inventata da lui della monaca di Monza non ho letto la trama ho letto solamente dietro che c'è una citazione del libro che voglio leggervi mi dedicai alla preghiera anche se non riuscivo a concentrarmi il volto di Gian Paolo Osio mi tormentava quel sorriso sfacciato quegli occhi di fiamma le sue offese come coltelli nel petto e il suo modo di fare spavaldo in una maniera che mi risultava insopportabile è bastato questo per comprarmi e per cominciarmi a comprarlo ora passiamo alle collaborazioni mi sono arrivati quattro librini di cui vi leggerò appunto le trame vi faccio vedere due libri che mi sono arrivati da Antonio Pagliaro e praticamente lui mi ha contattato per inviarmi un testo uno dei suoi testi io ho scelto quale ho scelto Storia Terribile delle Bambine di Marsala il delitto che sconvolse l'Italia intera della Zolfo Editori che tra l'altro è bellissimo e lui ha deciso di mandarmi comunque Morirono nella notte il mistero della White House Farm questo e io sono veramente grata all'autore per avermi mandato entrambi i suoi titoli che sono due libri ovviamente di cronaca nera partiamo da Storia Terribile delle Bambine di Marsala Marsala nell'autunno del 1971 nel breve tragitto fra scuola e casa tre bambine di 9, 7 e 5 anni scompaiono si chiamano Antonella Ninfa e Virginia nei giorni successivi 3000 uomini battono la provincia sono poliziotti carabinieri militari vigili e molti volontari li coordina un giudice di alto profilo Cesare Terranova finché i corpi delle tre bimbe vengono ritrovati nel 1979 la corte d'assise di Messina riconosce colpevole del triplice omicidio lo zio di Antonella nel frattempo diventato un mostro di Marsala e lo condanna alla pena di 29 anni ma nessuno a Marsala crede che abbia agito da solo deve esserci altro la mafia stragista una banda senza stupoli le più terribili droghe le orge sataniche un complotto dei poteri forti devono esserci da qualche parte i potenti e gli impuniti basta non vi leggo altro mi ispira troppo 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 morirono nella notte il 7 agosto 1985 Neville e June Bembe Bamber 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 o Bember non lo so la figlia adottiva Sheila e i gemelli di 6 anni Nicholas e Daniel figli di Sheila vengono trovati morti nella casa di Campagna nell'Essex uccisi a fucilate porte e finestre sono chiuse dall'interno Sheila è morta arma in mano e una bibbia a fianco la polizia è stata avvertita da Jeremy altro figlio adottivo di Neville e June svegliato nella notte da una telefonata del padre sembra un caso semplice di omicidio-suicidio ma qualche mese più tardi Jeremy dopo indagini private condotte da familiari in lotta per l'eredità è arrestato e inseguito condannato ancora in carcere nel 2023 si è sempre detto innocente e forse lo è come d'altra parte Sheila ma chi ha ucciso i Bamber? basta mi fermo qui non finisco non voglio andare a spoilerarmi niente non voglio andare a spoilerarvi niente anche a voi io odio leggere le tram però in questo caso andava fatto mi ispirano entrambi tantissimo io ringrazio ancora l'autore che ho ringraziato ventimila volte ma li ringrazio ancora perché sembrano dei libri bellissimi che mi ispirano tantissimo Dario Padalino mi ha mandato la biblioteca segreta di Somat con questa copertina stupenda veramente stupenda e parla è praticamente un distopico ambientato nel ventiduesimo secolo in cui appunto il mondo è governato da un unico regime chiamato potere vi leggo magari la trama nel ventiduesimo secolo il mondo è dominato da un unico regime potere l'ultima guerra mondiale ha distrutto gran parte dell'umanità lasciando abitabile solo un continente l'omonimo potere con capitale Somat la società è notevolmente cambiata tutto è governato unicamente dagli uomini le donne sono escuse da tutti gli ambiti della politica e della società la cultura è totalmente rivista in favore della propaganda non esiste la carta e i libri cartacei sono stati confiscati una serie di leggi limitano la libertà e contemporanei l'ateismo l'eresia e l'omosessualità tra le altre cose sono condannate con la pena di morte a Somat le rivoluzionarie donne che combattono per i loro diritti rappresentano una piccola speranza di cambiare le cose e i due protagonisti Carlos e Sofia dopo un'inevitabile scoperta tenteranno di aiutarle per dare un nuovo volto al mondo bellissimo mi ispira un sacco e niente io ringrazio ancora Dario per la copia e passiamo all'ultimo libro che si tratta di Implacabili Dipendenze di Sara penso che sia allora non so se sia Ballabio o Ballabio io non vorrei sbagliarmi mi dispiace Sara se sto storpiando il tuo cognome scusami ti prego che mi ha tra l'altro lasciato una una dedica carinissima veramente e è un libricino piccolissimo guardate la copertina bellissima mentre il presente si fonde con i ricordi e le aspettative future Elisa si lascia trasportare dalla corrente della vita riflettendo sulle esperienze vissute sulle gioie e i dolori che l'hanno prasmata rendendola la donna che è oggi con una prosa profonda e toccante l'autrice ritrae le relazioni umane e l'amore i legami invisibili che ci legano agli altri il senso di dipendenza che proviamo quando incontriamo la persona che avremmo sempre desiderato al nostro fianco Implacabili Dipendenze ci invita a esplorare il senso dell'esistenza a comprendere la forza dell'amore e delle relazioni ma anche a cercare di accettare le scelte del destino soprattutto quando ci stravolgono l'esistenza e la riempiono di dolore bello 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 mi ispira veramente un sacco che sembrerebbe essere super nelle mie corde quindi sono super curiosa e non vedo l'ora di leggerlo io vi ho mostrato tutti i libri che ho acquistato mi sono arrivati eccetera aspettatevi nelle prossime settimane il book haul per il mio compleanno appunto perché mi sono stati regalati un sacco di libri io non potrei essere più felice di così io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video di questo libro di questo video che spero appunto vi sia piaciuto se già non lo avete fatto e vi andrebbe di farlo insomma iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per sostenermi e farmi capire che il lavoro che sto facendo che sto portando avanti vi piace lasciate un commentino con se avete letto qualcuno di questi titoli e da quale dovrei iniziare e se già non lo fate vi invito a seguirmi sugli altri social specialmente su Instagram su cui sono veramente superattiva ogni giorno con le storie però anche su TikTok sto diventando brava perché riesco a postare praticamente ogni giorno quindi se vi va vi lascio i link in descrizione io vi ringrazio ancora se siete arrivati fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao